Eccezionalmente in esterna. In esterna è contesissimo. Salve comunque. Ciao Jacopo. Buonasera, buonasera, buonasera. Collegamento speciale. Stavo un po' arrossendo a sentire i commenti in studio. Ma siamo qua in due, stai attento. E tu Massimo mi hai un po' spoilerato. Io ti spoglio. Esatto, devo stare attento. Massimo mi ha un po' spoilerato la sorpresa in realtà, perché io sono a Palazzo Reale, come hai suggerito prima a Serena, per la mostra attualmente in corso dedicata a Claude Monet, realizzata in collaborazione con Artemisia e il Musée Marmottant Monet di Parigi. Quando ho letto della mostra ho pensato, perché non mostrare dei quadri di Monet meno conosciuti, di quei quadri che lui amava così tanto da non aver mai voluto vendere. E allora sono venuto qua. Anche perché di Monet e Massimo abbiamo un'immagine un po' stereotipata, legata a un solo periodo della sua vita. Invece Monet è anche altro. Ad esempio, se ti chiedessi qual è il primo quadro di Monet, a te quale verrebbe... Quello dell'impressionismo, impressione. Le var del sole. Ecco, però quando l'ha dipinto aveva già 32 anni. Prima ha fatto anche altro. Non dirlo così, sembra che sia colpa mia. È certo. Per citare... Sbagliato. Già 32 anni. C'è un... No, perché adesso... Esatto, già 32 anni. C'è un lato completamente... Già. Un lato completamente nascosto di Monet. Ad esempio, guardate questa sua natura morta oggi alla National Gallery di Londra. Non diremmo mai che è lui. Qui Monet ha solo 22 anni e non è ancora il pittore che gioca con i colori. Gioca qui invece con la prospettiva. Poi le cose da lì a poco sarebbero cambiate. Cos'è successo? Che è successo? È crollato... Che è successo? Sono cambiate. Che è successo? Sono cambiate. Che è successo? Che è successo? È successo che c'è stata un'invenzione rivoluzionaria di un pittore americano, un artista americano. Il tubetto di colore. Oggi lo diamo per scontato, no? Ma in realtà per secoli, pensiamoci un attimo, fino alla metà dell'Ottocento, i pittori cosa dovevano fare? Dovevano stare lì, mettersi lì, mescolare i vari pigmenti di polvere con le diverse emulsioni d'uovo, d'olio, di colla animale, per prepararsi i colori. E questo era un processo lento che obbligava gli artisti a restare in studio, a dipingere chiusi in uno studio, anche perché il colore seccava subito, non era molto difficile da trasportare. Invece il tubetto di metallo era prêt-à-porter, ha permesso agli artisti di portarselo dietro, di andare a dipingere en plein air, all'aperto. E basta, su, che qui ci sono due donne. Mi dici prêt-à-porter, perché qui abbiamo Stefano Accorsico. Anch'io parlo francese. Lui parla cinese, io parlo piemontese, faccio quello che posso. Ci sono due donne innamorate, ci sono due donne innamorate. En plein air, eravamo arrivati a en plein air. Pret-à-porter. Non ti curare di loro. En plein air, esatto. Finalmente i pittori possono uscire grazie ai tubetti di colore. Ad esempio, figlia del tubetto di colore è la passeggiata vicino ad Argentoy, che sta nella sala qui a fianco, in cui Monet coglie un attimo di felicità familiare, come se avesse un istantaneo, in modo immediato. Qui spicca sua moglie, Camille, di cui tra l'altro conosciamo l'aspetto fisico solo grazie alla pittura. Sapete perché? Perché la seconda moglie di Monet, Alice, era talmente gelosa di lei che ne ha distrutto tutte le fotografie. Poi accanto c'è anche un uomo. Come mai non ha distrutto i quadri? E' un uomo. Non poteva distruggere anche i quadri. Ha distrutto. Che rendevano. I quadri rendevano. Ma Monet li aveva messi a riparo i quadri. In parte erano in altre collezioni. E poi c'è anche un uomo non identificato. E' il figlio, il piccolo Jean, che purtroppo è morto giovane. È il primo figlio di Monet. Morendo giovane ha poi lasciato come unico erede l'altro bambino, l'altro figlio. Michel, di cui abbiamo un ritratto qui in mostra di Michel Bambino. Che però non era minimamente interessato alla pittura. Tanto che dopo la morte del padre ha venduto parecchi i suoi quadri. Sai per fare cosa, Massimo? Per finanziare i suoi safari in Africa e la sua passione sfrenata per le automobili. Per fortuna ne ha lasciati moltissimi in eredità al musée Marmottant. E alcuni di questi quadri oggi sono qui in mostra. Ecco, dici un po' com'è il tuo modo di seguire una mostra. Perché io, come penso tanti, quando vado in una mostra non seguo il percorso obbligato. Ma vado dove mi porta l'occhio. Quando mi colpisce un quadro vado lì. Tu hai visto dei quadri. Qual è il tuo percorso di questa mostra? Beh, ci sono almeno tre cose che mi hanno colpito. La prima, ovviamente, sono le ninfee dello stagno di Monet a Giverny. Qui in mostra ci sono cinque dei 250 quadri che Monet ha dedicato. Serena è in brodo di giugiole. E pensa che... No, perché è appassionato. Non so se Serena conosce questo aneddoto, ma dei sei giardinieri che lavoravano per Monet, uno era incaricato di occuparsi esclusivamente delle ninfee. Ogni mattina prendeva la sua barchetta, remava al centro dello stagno e andava a spolverarle una ad una prima che il maestro iniziasse a dipingere. Tra l'altro era l'insperato perché gliene morivano parecchie, per cui era costretto a riordinarle sempre. Sì, ma tu non fare la... Scusa, stiamo parlando un attimo. Ecco, Ludi, stai capito. Jacopo, vai. Scusa. Sì, sì. Massimo ci sgrida, dai. E lui per fare giardinaggio, che è un grande giardiniere, e anche per dipingere Monet, questa è la seconda cosa che mi ha colpito, sono i suoi occhialetti alla John Lennon, che gli sono stati prescritti dopo che venne operato di cataratta. Infatti hanno le lenti leggermente colorate di giallo, per correggere la sua visione alterata dei colori. Di fatto Monet per dieci anni ha sempre rifiutato di farsi operare, continuando a dipingere anche quando era praticamente cieco, tanto che di fronte ai dipinti realizzati in questo periodo di problemi alla vista, i critici più duri, qui vi ho portato il suo ponte giapponese, dicevano a Monet, ma tu Monet non sei un artista rivoluzionario, tu sei semplicemente un pittore che ci vede male, sostanzialmente. E la terza opera? Poi la terza, la terza opera, quella che mi ha colpito di più, l'ho lasciata per ultima, è La tela alle mie spalle. Questa è veramente una chicca per le parole, si intitola Le Rose e fu dipinta quando Monet aveva ormai 86 anni. Ed è emozionante, rappresenta questo ramo di rose rampicanti attorno al muro della sua casa a Giverny e colpisce perché è l'ultima, proprio l'ultima opera dipinta da Monet pochi giorni prima di morire, forse addirittura è rimasta incompiuta sul cavalletto, se fate attenzione ci sono alcune parti che non sono state dipinte e sai perché mi colpisce Massimo, perché mi ha emozionato? Perché qui siamo nel 1926, Picasso, i futuristi surrealisti erano già al lavoro e nel 1926 la pittura impressionista non era più vista come attuale dagli artisti del tempo, però Monet tenace continua il suo stile, ci lascia un suo testamento, una sorta di addio scritto nella luce e nel colore. Vale veramente la pena trovarsi a tu per tu con questa meraviglia e avete tempo fino al 30 gennaio per farlo. Grazie Jacopo, noi ti lasciamo alla contemplazione di Monet e andiamo avanti. Grazie davvero, ciao Jacopo, alla settimana prossima.